Ben trovati, ben trovati a tutti con le news da Famiglia Cristiana, saluto e ringrazio qui con me Francesco Anfossi, caporedattore, ben trovato. Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, un saluto a te, pronta a presentarci il nuovo numero con una storia di copertina che adesso vi mostriamo e che tu ci puoi commentare, no? Sì, forse qualcuno, insomma, li riconosciamo, sono un grande campione, un grande discesista, discesa libera, voltellinese, Cristiana Ghedina e la pallavolista Francesca Piccinini che insieme faranno Pechino Express, la nuova edizione disponibile in streaming anche e ci parlano dello sport maestro di vita, che non è una banalità perché loro hanno iniziato piccolissimi, Ghedina addirittura ha figlio Dario, la sua mamma faceva la maestra di sci ed era anche lei una discesista, ma soprattutto ci parlano della grande disciplina dello sport fin da piccoli che poi ti crea, ti aiuta anche ad affrontare la vita e non è una banalità perché ti tiene lontana dalle tentazioni, dalle droghe, dalle cattive compagnie, ti insegna un metodo, ti insegna una cosa fondamentale che è il cimento, come si diceva una volta, è fondamentale per raggiungere tutti gli obiettivi che si vogliono e quindi anche per raggiungere dei sogni. Adesso il prossimo sogno è appunto questo programma Pechino Express a cui parteciperanno insieme ad altri personaggi noti e che ovviamente li renderà ancora più contenti di quello che stanno facendo. Noi li abbiamo intervistati, entrambi abbiamo raccontato chi sono e ora non resta che leggere questa bellissima intervista che è anche la storia di Copertina a cura di Gianluca Pisacane che è il nostro critico, è il nostro giornalista che si occupa anche di cinema e di televisione. Grazie mille allora per averci illustrato la storia di Copertina e poi ti chiederei subito di affrontare uno dei grandi temi del nuovo numero che è quello dell'Andrangheta, di come si affronta armati di una cosa che è inaspettata ma efficace che è il Vangelo. Il Vangelo sì perché dovete sapere che in certi territori dove l'Andrangheta ahimè prevarica l'ultimo argine insieme ovviamente alle forze dell'ordine, alle istituzioni è proprio la Chiesa. La Chiesa che io l'ho visto spesso come cronista di mafia in passato diventa l'ultimo argine, un argine quasi invalicabile a prezzo della vita e allora ecco che ci sono i martiri come Don Giuseppe Puglisi oppure Don Peppino Diana di cui si celebrano quest'anno i 30 anni della morte il 19 marzo, vengono uccisi tutti il giorno del loro compleanno del loro nomastico perché la mafia e l'Andrangheta oppure anche i clan hanno i loro rituali di morte. E Peppino Diana viene ucciso il 19 marzo del 94, 30 anni fa, nella sacristia della Chiesa, io sono stato anche a Casal di Principe, ho visitato una chiesa molto semplice, prima che facesse messa del mattino è entrato il suo killer e l'ha ucciso a sangue freddo, di cosa era colpevole Don Peppe Diana di fare il suo, di svolgere la sua missione di pastore. Svolgere la missione di pastore in quei luoghi non è così semplice perché si tratta di trasmettere, enunciare certi valori che si scontrano con la logica feroce dei clan della Camorra. Succede anche in terra di Andrangheta, è successo per esempio a Pannaconi, che è una piccola frazione di un borgo in provincia di Vibovalenza che è Cessaniti, dove un sacerdote, avrete letto le cronache, ha rischiato di morire perché gli hanno messo la candeggina nel vino da messa. Notate anche la coreografia macabra in cui avrebbero voluto ammazzarlo. Allora noi abbiamo voluto anche segnalare e raccontare la straordinaria risposta della società che pur esiste in questi territori, che è più viva che mai, soprattutto affidata ai giovani della società civile, per esempio con la marcia silenziosa, la fiaccolata per le vie di Cessaniti che si è svolta sabato scorso. Come vedete molti striscioni, molto belli, molti giovani, addirittura bambini, la fiaccolata per dire no alla prevaricazione dell'Andrangheta, che cerca di occupare il territorio e soprattutto di controllarlo. E si scontra ovviamente con la posturale della Chiesa che invece risponde alla violenza con il perdono, con la misericordia. Tra l'altro questo sacerdote, Don Felice Palamara, oggetto del... anche il Vescovo è stato minacciato, è stato intimidito con un proiettile che gli è stato recapitato via posta. Tra l'altro, dicevo, Don Felice Palamara è stato miracolato da un altro grande sacerdote e è proprio una specie di secondo miracolo, no? Questo, quello che ha passato perché già era stato miracolato, perché c'è stato proprio un processo canonico, quando aveva avuto una grave malattia da cui poi è guarito. Quindi, insomma, è una vicenda molto interessante, è molto bella, molto bella perché è tutta da raccontare, insomma. E poi ovviamente ci sono molti segnali di insofferenza dell'andrangheta nei confronti della Chiesa, si moltiplicano gli attentati, si moltiplicano le minacce, si moltiplicano le intimidazioni. E la Chiesa naturalmente risponde con la misericordia e col perdono, invitando a convertirsi. Ecco, infatti stavo vedendo, uomini dei clan convertitevi. L'andrangheta non è che risponde con la violenza e quindi anche il lavoro delle forze dell'ordine è preziosissimo per far andare avanti la società civile. Società civile che è fondamentale perché l'andrangheta si sconfigge fin da bambini con la scuola, con l'educazione, con la famiglia, cercando di estirpare quella cultura della previgrazione, della violenza, quella cultura di morte che è tipica di queste associazioni per delinquere. Infatti voi scrivete le nuove generazioni che tra l'altro sono radicate da generazioni e quindi noi abbiamo titolato le nuove generazioni salveranno questa terra perché la rinascita di questa regione meravigliosa che è la Calabria passa attraverso la fede, la religione ma soprattutto l'educazione, attraverso i valori in campo. Allora qui abbiamo raccontato anche le numerose iniziative, per esempio a Polsi, a Polsi era un santuario dove si convenivano, dove si riunivano i mafiosi, dove spesso avveniva anche la trattativa dei rapiti, sapete che la Spromonte soprattutto negli anni 70-80 è stato il nascondiglio di tanti ostaggi rapiti che poi come Andrea Cortellezzi non sono mai tornati a casa. E quindi adesso Polsi invece è stata come dire tra virgolette bonificata, è diventato quasi il simbolo della rinascita della società civile, quindi noi abbiamo voluto raccontare anche queste cose. Insomma c'è qualcosa di bello intorno a questa intimidazione e della risposta dei cittadini, dei fedeli di fronte a questi atti terribili. Sì, che vogliono comunque farsi sentire, che trovano l'esempio positivo di non farsi intimidire, perché un conto è raccontarlo da qua comunque e guardarlo e dire sì complimenti, ha fatto un conto poi è viverlo e stare in coraggio. Ci sono anche dei documenti molto importanti della CEC, la CEC è la conferenza episcopale Calabra, cioè dei vescovi calabresi che ovviamente denunciano questi atti ma soprattutto cercano di manifestare la cultura dell'evangelizzazione, del perdono, dei valori, della legalità. Perché legalità e religione sono quasi due sinonimi, quindi è giusto portarli avanti. Forse a Milano, mica tanto ultimamente, ci sono infiltrazioni dell'andrangheta anche al nord, ma può sembrare scontato, da quelle parti lo è un po' meno e quindi è giusto andare avanti su questa strada. E tu ci raccontavi di una nuova generazione che ovviamente deve saper combattere questo male che è insito in quelle zone e poi lo facciamo anche in una maniera molto più leggera dicendo meno male che ci sono i giovani con i protagonisti del cinema. Sì, perché abbiamo intervistato Silvio Orlando che parla del sequel di Ferri d'Agosto, forse voi avete visto, una bellissima serie e lui dice che, essendo un attore straordinario, come attore straordinario, è anche un intellettuale, è anche un osservatore della società, dice al nostro Eugenio Arcidiacono che negli anni passati dal primo film, Ferri d'Agosto, le utopie sono definitivamente crollate. E ora cos'è rimasto dopo le utopie, quella del 68, dopo la caduta del muro, eccetera, eccetera, cos'è rimasto? È rimasto l'individualismo, c'è un'alta concentrazione di egocentrismo. Pronto come sto? Sì. E quindi bisogna cercare di debellare questa malattia che coinvolge un po' tutti forse, un po' una tentazione comune e dice che però ha molta fiducia nei giovani, le nuove generazioni sono molto consapevoli di questo, sono un po' più solitarie perché i boomer, come sapete, sono tantissime, le generazioni, diciamo le annate, andavano avanti a un milione di nati ciascuno, adesso sono 200.000, 300.000, sono un po' più soli, ma sono un po' più consapevoli. Poi mi è piaciuta molto la domanda, poi vabbè i nostri amici da casa leggeranno bene l'intervista, però quando gli chiede ci sono ancora gli intellettuali oggi in Italia? E lui dice c'è un ceto che si guadagna da vivere pensando, però mancano un po' di figure di riferimento. Sì, e lui non a caso usa la parola ceto per significare quasi una casta, come per dire sì, c'è gente che vivacchia facendolo intellettuale, però è un po' in una comfort zone, non c'è questa voglia di stupire, di provocare, che è tipica del mestiere dell'intellettuale. Ecco, poi ritorno un attimo di propotenza alla vostra copertina, perché prima di salutarti, poi oggi è il 6 di marzo, quindi tra due giorni, scusate, ci sarà la festa della donna, e voi l'avete osservata con le donne che vogliono dare un futuro a Scampia, quindi ritornando un attimo a legarci sia all'attualità che a quello di cui parlavano. Siamo andati nel famigerato quartiere alla periferia di Napoli, Scampia, dove ci sono le vele, adesso non le hanno abbattute, ma dove, insomma, terra di spaccio, Gomorra, eccetera, eccetera, dove però c'è anche lì, ci sono semi di speranza da parte della società, la società civile, tra cui questa associazione di donne che ha fondato un'associazione di servizi, proprio a Scampia, noi l'abbiamo raccontato. La sfida guidata dalle donne, hanno fatto anche un museo, una palestra, contro le barriere architettoniche, tra l'altro un ristorante multinettico, e insomma è una bella cosa per l'emancipazione, è un futuro dei figli, i quali da quelle parti vengono quasi condannati a un futuro... Che è sempre quello. Che è sempre quello all'ombra dei clan, della Camorra, lì, io ricordo di aver fatto più di un reportage a Scampia e lì la Camorra la vedi, la vedi, la vedi nei banchetti agli angoli delle strade, la vedi in quelli che controllano i crocevia, la vedi in quei poveri ragazzi che Saviano in Gomorra chiama i fantasmi, no? Perché barcollano, sembrano quasi delle figure spettrali, invece sono dei poveri tossicodipendenti divorati dall'eroina. Ora molto cambiato, dall'ultima volta che sono andato io, cioè più di 15 anni fa, ma rimangono i problemi e queste donne coraggiosissime vogliono che anche Scampia, questo quartiere così... Così simbolo, così simbolico e quindi la rinascita di un quartiere grazie a queste associazioni femminili, quindi sapete anche che il nuovo numero vi offrirà questo e tanto altro. Grazie Francesco Pozzi, caporedattore di Famiglia Cristiana, noi ci vediamo dopo la pubblicità, spazio alla regia, tra poco.